...che Salvini stesso aveva usato dieci anni fa, portando la Lega al 34%, oggi stanno vincendo in mezza Europa, proprio mentre Salvini invece è ai minimi termini rispetto ai grandi risultati di qualche tempo fa. Sì, ma ormai credo che Salvini sia candidato ad essere la destra, diciamo, del centro-destra. Questo mi sembra abbastanza chiaro, cioè c'è un'evoluzione in cui tu hai la Meloni che sta in un tentativo di mettere in piedi un partito conservatore che è più centrale e lui invece si candida su quel versante. Certo, la cosa che colpisce è che tu fai il paragone con Salvini, Pontida di Salvini, se io faccio il paragone con la Pontida di Bossi è un altro partito, completamente, è un'altra cosa. Perché sono cose che non stanno insieme, nel senso che sono due anime completamente diverse, le vedi anche, diciamo, tra la parte che, ti posso dire, chiamiamola quella dei governatori, che hanno un approccio di un certo tipo più pragmatico. Però uno, quello di Bossi, era un partito che puntava al 10%, però, e Salvini è un partito che è riuscito a raccogliere il 34% perché è diventato nazionale con delle parole d'ordine completamente diverse. Sì, però tu vedi, quello che però, e secondo me, noi probabilmente avremo lo stesso fenomeno in tanti di questi soggetti, è che tu riesci a cavalcare un'onda, però poi quell'onda può sempre finire e diventa, diciamo, un successo effimero ed è difficile poi ritirarlo fuori, riproporlo, perché normalmente il populismo, normalmente nelle immagini, nelle leadership, consuma, cioè tu non hai una seconda occasione. È la differenza tra partiti storici e partiti che nascono su queste onde emozionali. Chiedo allo storico.